Al di là del monitoraggio, quello che è importante... È un servizio innovativo e sperimentale che prenderà il via dalla farmacia Digimarra, dove oltre ad effettuare i controlli necessari per ottenere le certificazioni richieste dalle società sportive, verrà fornita ai genitori una scheda con i dati del bambino, ad esempio inerente alla postura e alla nutrizione con tutti i consigli per una sana e corretta crescita dei ragazzi. Al momento questa nuova iniziativa di Aset S.p.A. con il supporto dell'assessorato allo sport del comune di Fano vede coinvolte due società, l'Alma Juventus Fano 1906 e la Virtus Volley. C'è anche un monitoraggio continuo, quindi parliamo di controlli trimestrali che sono comunque gratuiti, al quale si può tranquillamente accedere prenotando il servizio e quindi facendo in modo che i genitori e anche le scuole di calcio o le società sportive possano in qualche modo monitorare la crescita sana dei propri iscritti e i genitori. Entro la fine di agosto iniziare con le prenotazioni che verranno effettuate da parte delle varie società per poter prendere i primi appuntamenti per le certificazioni e per i primi controlli. Tutti possono aderire a questo genere di iniziativa, sia chiedendo informazioni e ci presenteremo di volta in volta con dei progetti che possono in qualche modo accontentare qualsiasi tipologia di sport e di associazione. Oltre alle varie società sportive del territorio, il servizio ha l'obiettivo di coinvolgere nel tempo tutte le farmacie comunali. Dottore, una novità molto importante per tutti gli sportivi, come funzionerà nel concreto? Quali saranno i consigli che darete a questi giovani? Sì, il progetto prevede innanzitutto un monitoraggio del piccolo atleta durante tutta la stagione sportiva quindi verranno monitorati alcuni parametri che sono quelli fondamentali peso, altezza, saturimetria, la postura al tempo zero e poi durante la fase del campionato. In questa maniera il ragazzino è osservato, quindi si possono rilevare delle piccole imperfezioni e pertanto si possono pure correggere. E' essenziale anche così dare dei consigli soprattutto non tanti ai ragazzini ma ai genitori per come si devono comportare durante la giornata per far crescere il piccolo atleta nel modo migliore. E tra questi il riposo notturno di almeno 8-9 ore durante il quale vengono stimolate le attività fisiologiche di recupero con un meccanismo di autodepurazione delle scorie e delle sostanze che vengono prodotte dal fisico durante l'attività sportiva. Poi evitare pasti abbondanti la sera e l'utilizzo di computer o cellulari prima di andare a dormire. Evitare anche bevande che contengano sostanze eccitanti come teina e caffeina. Fondamentale inoltre è idratarsi continuamente e mangiare in modo sano, regolare ed equilibrato. E poi per concludere ecco un genitore più che dare dei consigli deve dare degli esempi. Cioè è critico magari dire mangi in questa maniera quando poi il genitore è in poltrona e si fa la sua cena guardando la televisione.